Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo un pochino dei titoli che sto attendendo per il 2021 ovvero un po' tutte le uscite che fondamentalmente sto puntando è un video abbastanza classico che arriva sempre con l'inizio dell'anno sul mio canale e insomma così vi racconto un po' le uscite che sto puntando come sempre la maggior parte sarà estera perché editoria italiana guai mai fare un calendario delle uscite ma figuriamoci se possiamo... vabbè cosa stiamo dicendo insomma bisognerebbe sapere fare marketing decentemente ma così non è e lo sappiamo in ogni caso quindi comunque qualche uscita italiana ve la racconto quelle che sto puntando e poi passiamo un po' all'estero questo vi preannuncio già sarà l'anno sicuramente delle autrici asiatiche sicuramente voglio un po' tornare sulle novità anche se non saranno molte quindi ho veramente fatto un po' una cernita e insomma direi di iniziare con quello a cui sto puntando partiamo dalle uscite italiane che sono forse le cose più semplici visto che sono pochissime sapete che insomma scovare le date di uscite dei libri in Italia è più complicato forse che trovare la cura per non so l'Alzheimer ma noi intanto abbiamo queste quindi partiamo da qui parto con un'uscita che mi riguarda in qualche modo e quindi sono super felice perché il 19 gennaio esce Le figlie di Ys di Joryu e M.T. Anderson i disegni sono proprio distratti da Joe invece M.T. si è occupato di tutta la parte testuale e l'ho tradotta io quindi insomma è un'uscita la quale tengo molto soprattutto perché non vedo l'ora di averla tra le mie mani è una graphic novel ispirata dal folklore bretone ci troviamo in questa città opulenza totale ma dietro l'opulenza c'è qualcosa di malvagio e seguiremo un po' la storia delle sorelle una si chiama Rosenne e l'altra si chiama Dahout sono molto diverse tra di loro team Dahout tutta la vita ma poi ne parleremo con calma in ogni caso insomma esce il 19 di gennaio per belle edizioni puntatelo perché davvero io ci tengo moltissimo è davvero una uscita super carina la graphic novel è adorabile cioè adorabile e ha dei disegni bellissimi e quindi io non vedo l'ora davvero che arrivi il 19 gennaio però è la data dove esce tutto probabilmente in Italia perché infatti esce anche Assedio e Tempesta ovviamente della sola, la unica nostra regina e nostra signora Libardugo ovvero il secondo volume della Grisha Trilogy che tra l'altro è uno dei miei preferiti opinione super unpopular ma c'è Nicolai quindi finalmente lo conoscerete tutti e finalmente ah finalmente che è ovviamente il miglior personaggio mai scritto da Libardugo oggettivamente a livello proprio oggettivo e quindi io sono super contenta non vedo l'ora quindi anche quello ce lo scaviamo in fretta il 19 gennaio esce anche la sirpe della gru di Joanne che davvero io sto attendendo moltissimo perché è l'unico libro di questa serie insomma che non ho letto di uscite italiane e a me ispira moltissimo al di là del fatto che Commento Frivolino ha una copertina che ve lo giuro io me la tatuerei è bellissima, ha dei colori magnifici quindi ok di nuovo un ottimo lavoro che in questo caso è da parte dei grafici americani e degli artisti americani però devo dire così questo è un romanzo che in realtà ha avuto di per sé una sfiga allucinante nel senso che cioè sfiga morte al padrone capitalista perché la povera Joanne ha avuto dei problemi grandissimi con la casa editrice perché non le pagava semplicemente i diritti che le aspettavano e quindi dopo diverso tempo e davvero un paio d'anni dove lei disperatamente cercava un pochino di fare luce su ciò che stava succedendo il perché non era arrivato il secondo volume insomma ho visto su twitter che da poche settimane ha risolto e ha praticamente ripreso in mano tutto il suo lavoro insomma ha mandato a fare una passeggiata in Siberia ai suoi editori detto ciò io sono molto curiosa la storia di per sé cioè diciamo che mi interessa il giusto nel senso che a quanto pare la nostra protagonista sale al trono perché hanno ucciso il padre si ritrova invischiata in intrighi di palazzo allucinanti e in tutto ciò deve anche risolvere il mistero per capire chi è che ha ucciso il padre chi è che ovviamente sta cercando di ammazzare anche lei e prendere il potere boh io sono carica anche perché davvero una delle poche certezze che le autrici asiatiche o di discendenza asiatica ovviamente ci hanno regalato moltissime gioie in questi anni quindi io andrei su quella strada in ultimo finalmente perché non so più come dirvelo quindi a un certo punto avevo bisogno anche che questa cosa uscisse ok il 5 febbraio esce il libro dell'anno in Italia quantomeno ovvero Piranesi di Susanna Clark io ve l'ho già messo in cima la mia top del 2020 perché è un libro della madonna spero che lo amerete tanto quanto lo ho amato io e secondo me è un libro pazzesco è un libro veramente bellissimo e si merita tutti gli elogi che gli si possono dare e quindi insomma il 5 febbraio finalmente arriva speriamo e confidiamo in una traduzione fatta come si comanda e ci siamo ma ora passiamo alle uscite inglesi perché è finito l'elenco delle uscite italiane quindi andiamo direttamente a febbraio sempre sì il 16 e voi direte Tiffany ma stai bene benissimo perché il primo titolo che io sto puntando ovviamente è A Court of Silver Flames che è il nuovo romanzo della serie di Akotar di Sarah J Maas perché leggerlo perché ho delle aspettative che verranno puntualmente deluse perché Sarah J Maas non ti dà gioia ti dà solo del trash fatto male è anche come non lo vuoi ma comunque in ogni caso io punto tantissimo questo libro perché c'è Nesta Nesta è uno dei miei personaggi preferiti perché è l'unica che manda a cagare Fera come Fera si merita e quindi io mi aspetto un libro dove per tutta la sua intera durata ci sia lei che insulta Fera come funzionerà non così sicuramente sarà una delusione orribile sarà tutta un'altra roba anche che già è prevenibile da chilometri di distanza perché tanto è la mass ma comunque io sono carica cioè a me dai un libro dove c'è un personaggio super aggressivo incazzata nera con la protagonista che odio cioè c'è scritto Tiffany comunque è la mia uscita trash dell'anno super carica ecco già una serie sui Len non l'avrei mai letta ma chi è che mi fa fare una roba del genere però insomma qua siamo cariche poi lo so che è come passare dalle stalle alle stelle e a fine marzo esce finalmente Rule of Wolves dalla nostra divinità unica ovviamente Livardugo ovvero il secondo volume di King of Scars la duologia dedicata a Nicolai e Zoia anche perché alla fine sono entrambi protagonisti in maniera secondo me abbastanza equa ok ecco io sono una di quelle che l'ha apprezzato tantissimo King of Scars perché secondo me il viaggio psicologico è perfetto ci sono problemi di trama abbastanza evidenti che potevamo risolvere in un altro modo ma a me è piaciuto molto lo stesso perché tanto non mi interessa tanto la trama mi interessavano altri aspetti ecco ci ha lasciato con quel finale lì di cui io non è che sia proprio contentissima però voglio vedere dove va a parare cioè ma poi mi metti Nicolai in un romanzo io sono comunque felice e poi mi metti Zoia che è la mia personaggia preferita di tutto il Grishaverse quindi cioè felicità felicità e quindi non vediamo davvero l'ora insomma io sono molto molto carica piacerà solo a me probabilmente ma io sono carica lo stesso poi altre uscite diciamo di autori autrici un po' meno conosciuti sono Between Perfect and Real di Ray Stove che esce il 13 aprile in questo libro che è un contemporary young adult seguiamo Dean Foster che è un ragazzo transessuale sa di essere un ragazzo transessuale ma tutti lo vedono come una ragazza lesbica perché ovviamente non ha fatto ancora coming out ha visto però abbastanza video su youtube insomma si è informato tantissimo ha iniziato a capire che la sua identità di genere è qualcosa di rilevante e però non sa come fare e diciamo che un po' sarà una storia secondo me che si confronterà con la difficoltà proprio dell'uscire fuori del riuscire anche a ricostruirsi la propria identità come persona trans che ovviamente da adolescente in un contesto scolastico complessissimo e tutto può essere molto complicato però insomma sono curiosa perché sembra molto dolce sembra anche una prospettiva abbastanza positiva e quindi è un on voice quindi insomma io sono molto carica il 18 maggio invece esce In the Ravenous Dark di A.M. Strickland io ora vi leggo solo la frase per cui io l'ho messo in questo diciamo elenco una maga dal potere del sangue pansessuale poliamorosa che si allea con riluttanza con uno spirito non morto per iniziare una ribellione tra i vivi e i morti io cioè non so voi ma secondo me basta già questa cosa qua a farmelo mettere in elenco sarà orribile ovviamente come tutte le volte che io parto carica però ok la copertina è bellissima uno degli artwork più belli di quest'anno secondo me o quantomeno ha degli spunti un po' più originali rispetto a cose che già vedo molto ripetersi e vabbè la storia in realtà è un po' più complessa di così e in questo mondo a Tanopolis coloro che sono dotati di magia ricevono alla nascita uno spirito non morto che è un po' la loro guida ma anche il modo per tenerli un po' legati al potere centrale la nostra protagonista ha sempre soppresso per volontà del padre il proprio potere poi a un certo punto c'è stato un incidente ed è saltato fuori e le viene assegnato proprio questo spirito ed entra così in una serie di intrighi di palazzo possiamo dire e al suo fianco ci saranno due persone che cercheranno di aiutarla tra cui proprio questo spirito io sono molto curiosa perché si parla poi tra l'altro di un fantasy anche a tinta abbastanza dark abbastanza semplice nelle sue premesse però con anche una relazione poliamorosa una protagonista pansessuale quindi io sono molto curiosa e poi di nuovo che bella la copertina il primo giugno invece esce An Emotion of Great Delight di Taere Mafi allora io penso di averlo detto almeno decino di volte Taere Mafi quando scrive distopico fantasy quella roba lì che scrive lei no cioè no thank you next nel senso che non è in grado ma quando scrive contemporanei che hanno a che fare soprattutto con la sua esperienza di donna musulmana arrivata negli Stati Uniti attorno all'11 settembre lì è potente lì è efficace e arriva al punto ed è molto brava sicuramente con del potenziale migliorabile però sicuramente la materia che maneggia è più reale più genuina e sicuramente più incisiva secondo me due anni fa io avevo letto A Very Large Expansive Sea che è il suo debutto diciamo nel Contemporary e secondo me lei lì è stata molto brava è stata molto toccante in questo caso non ci troviamo diciamo nel periodo delle Torri Gemelle ok ma ci troviamo un paio d'anni dopo nel 2003 e seguiamo una protagonista in un contesto di seconde generazioni di ragazzi musulmani che però si confrontano non più solo con l'episodio delle Torri Gemelle ma di nuovo con l'America che è in guerra con l'Iraq e tutta l'islamofobia che ruota attorno a quello che viene dopo quello che è arrivato e essere una ragazza musulmana in questo contesto è chiaramente molto complicato e la nostra protagonista poi tra l'altro sta vivendo un lutto molto importante perché ha perso il fratello e subisce un po' da tutte le parti è in un momento molto complicato e non sa cioè si sta tenendo tutto dentro ma finché a un certo punto non riuscirà più ed esploderà ecco io la trovo molto interessante poi tra l'altro secondo me di islamofobia in generale si parla molto poco molta reluttanza che non significa ovviamente essere pro conto cioè io sono super atea e tutto però allo stesso tempo vedo e osservo cosa succede alle ragazze musulmane che sono proprio tra le categorie più vessate che ci siano e quindi non so a me piace sempre molto quando lei racconta queste storie perché si percepisce tutta un'altra aura che rispetto alle ciofeche di Shattermy e compagnia invece il 6 luglio esce Six Crimson Cranes che è ovviamente uno scioglilingua di Elisabeth Lim Elisabeth Lim che è ovviamente l'autrice di Spin the Dawn che secondo me è stato un debutto quantomeno molto interessante con gravi errori secondo me nel volume che però con un editing un po' più massiccio con un tempo magari un po' più lungo potevano essere risolti tranquillamente veniva fuori un'opera di debutto incredibile quindi io devo dire che vedendo questo diciamo futuro promettente di Elisabeth Lim perché la materia la maneggia i personaggi sa scriverli le storie sono intricate però hanno senso sono interessanti si seguono bene insomma ha anche uno stile di scrittura secondo me interessante migliorabile quindi io spero che Six Crimson Cranes sia esattamente quello che mi aspetto da la seconda opera ecco direi che è superfluo parlarvi della trama però insomma io lo punto perché ovviamente mi interessa molto l'autrice in questo caso sono proprio curiosa invece il primo giugno quindi abbiamo fatto luglio-giugno vabbè qua i miei coppie in colla un po' a caso esce The Chosen and the Beautiful di Ndivo altra own voice che è sempre in ambiente asiatico e che mi interessa moltissimo perché in questo caso invece abbiamo un'opera che è ambientata negli anni venti in America e che diciamo è ruota attorno a grandi temi diciamo riproposti in letteratura degli anni venti quindi le grandi feste il jazz i circoletti un po' esclusivi eccetera dove la nostra protagonista essendo un'immigrata di origine asiatica queer e adottata viene diciamo inclusa in molte feste trattata comunque come una persona di serie B ma invece tutto ciò che è più esclusivo le viene ovviamente precluso essendo ovviamente parte di una minoranza ancora vista con grande sospetto in questa società poi che è tutta luccicante è facile rimanere abbagliati e la nostra protagonista incontrerà una serie di difficoltà misteri cose losche con le quali si dovrà confrontare e che hanno degli elementi magici io sono curiosa comunque secondo me anche come impostazione può essere anche come setting molto interessante ok poi questa uscita non ha senso che io la metta in questo elenco non se lo merita ma forse solo Blood of Booktube potrà capire il disagio se non mi capisce nemmeno lei è finita però allora ripartiamo da capo e diamo un senso a questa frase il 6 di luglio esce The Betrayal di Kira Cass che è il seguito di The Betrotted che come sapete è la mia delusione del 2020 perché era l'unica uscita trash che io attendevo e avevo delle aspettative al pari di The Selection cioè voglio quel trash divertente che non ha senso ma almeno cioè è talmente trash che ridi e fa il giro ok invece The Betrotted non è stato così The Betrotted ha fatto proprio schifo cioè è una roba noiosa anche un po' pretenziosa con le stesse premesse però di The Selection quindi rega dove vuoi andare che scrivi quella roba lì oh cioè e vabbè in ogni caso io lo metto in questo elenco con riluttanza ho detto che non l'avrei letto poi però oh magari cioè si è ripigliata ha preso le sostanze giuste e noi vogliamo credere nella Kira Cass no vabbè ok andiamo avanti non so quando non l'ho segnato perché sono una cialtrona esce She Who Became the Sun di Shelley Parker Chan che io vi leggo perché lo voglio leggere perché è questo il motivo per cui l'ho messo in questo elenco Mulan incontra la canzone di Achille in She Who Became the Sun una rivisitazione audace bizzarra e lirica dell'ascesa dell'imperatore fondatore della dinastia Ming da una straordinaria nuova voce del fantasy letterario allora Mulan che incontra la canzone di Achille cioè Mulan che è l'unica roba che io sopporto della Disney perché è oggettivamente una figata la canzone di Achille perché è la canzone di Achille quindi che dire follettine e follettine per forza finiva in questo elenco sembra super figo ha delle ottime premesse speriamo non vengano disattese come sempre comunque sembra molto interessante e la trama rega c'è Goodreads non ci sono io per le trame è il leitmotiv di tutto questo video oh poi passiamo il 17 settembre che speriamo esca Empire of the Vampire di Jay Kristoff io ve l'avevo già nominato l'anno scorso perché dovevo uscire a settembre 2020 poi ci sono stati problemi è stato rimandato di un anno ma probabilmente meglio perché se vuol dire fare più editing e lavorarci meglio meglio così io che dire amo i vampiri lo sapete una delle creature che più ho esplorato devo dire quanto meno nella mia adolescenza penso di aver letto qualsiasi cosa che contenesse all'interno dei personaggi dotati di zanne e che potevano insomma succhiare sangue anche le robe più trash e dimenticabili e cosa ho letto ok però allo stesso tempo io amo lo stile di Jay Kristoff non è per tutti è super teatrale super pompatone ok me ne rendo conto è tamarrissimo ma a me piace a me diverte quindi insomma perché no e sono molto curiosa di vedere insomma cosa fa su il vampiro Jay mi raccomando io attendo l'arc così cosa racconta poi di Empire of the Vampire vabbè non credo sia interessante credo sia interessante che sia Jay Kristoff che esce con una nuova opera finalmente per adulti peraltro quindi non ci troviamo né lato Illumine né lato Nevernight né lato Aurora Rising yeah poi come ultimo titolo siamo arrivati in fondo io ho davvero una grande passione per l'autrice quindi ora vi faccio i background di tutto Chiran J. Zhao è una ragazza di origine cinese che non ho capito se abita negli Stati Uniti vabbè ma non ci interessa e comunque lei è una ragazza di origini cinesi che ha un account Twitter dove decodifica praticamente i grandi prodotti dei media libri cartoni serie tv eccetera eccetera e li confronta ovviamente con la tradizione cinese la cultura cinese il folklore cinese generalmente per capire se siano effettivamente rappresentativi in una maniera corretta o meno e molto spesso è o meno e in questo caso io la seguo davvero da un bel po' di tempo ha anche aperto un canale YouTube ve lo linko magari da qualche parte vabbè lei è una figona pazzesca e poi fa questi video bellissimi adoro la sua ironia savage come poche cose in ogni caso perché vi sto parlando di Chiran perché lei ha scritto un libro ne sta parlando da diverso tempo tra l'altro so già che è stato acquistato in Italia da Rizzoli peraltro e questo non è un NDR che non ho firmato ma basta andare sul sito di Chiran e si trova l'informazione della vendita dei diritti quindi è ufficiale detto ciò esce Iron Widow ecco dovevo arrivare al titolo Iron Widow di Chiran J. Zhao non so neanche di cosa parla ma non mi interessa perché di lei mi fido ciecamente perché fa delle analisi complicatissime quindi veramente io ripongo tutto il mio 2021 su questo titolo più che su Rule of Walls che comunque io non è che mi fido granché però io davvero questo ve lo consiglio tenete d'occhio tra l'altro seguitela magari vi metto anche il twitter oltre al canale youtube ed è super interessante se vi vedete i video che ha fatto su Mulan pazzeschi e niente questo era un po' l'elencone ecco su altre uscite magari o a me non interessano oppure sono libri che non mi sono piaciuti o che non mi ispiravano già prima quindi ecco cerco anche di tenermi abbastanza leggera sulle varie uscite perché poi come l'anno scorso alla fine finisco per leggerne pochissime e magari è un anno strano e ho anche tante cose da recuperare del 2020 che sono uscito comunque cose che ancora dovevo leggere e non voglio neanche sobbarcarmi di piani ecco tanto cioè come sempre tutto è lasciato al caso io non progetto niente io non faccio schemi non lo so io odio darmi delle regole ma ancora meno se riguardano un hobby come la lettura c'è proprio interesse zero quindi insomma dai queste sono un po' tutte le uscite che sto puntando non so voi cosa state puntando se c'è qualcosina che esce insomma che magari io non ho nominato sentiamoci giù nei commenti che magari insomma segno e probabilmente per oggi potrebbe essere tutto anche perché penso che la quantità di delirio in questo video sia un po' troppo alta prega abbiate pazienza con me come sempre io vi ringrazio ancora per essere stati qua insieme a me e spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao